Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete detto dal titolo, andremo a parlare del misterioso stregone, membro dei signori del ferro, Lord Felwinter. Come tutti saprete di recente in game, è stata raggiunta la leggendaria arma di Destiny 1, menzogna di Felwinter, riprendo il capitolo di Lord dedicato al guardiano attorno al quale alleggia un'atmosfera misteriosa. Ebbene, in questo video andremo a fare chiarezza sulla storia di Felwinter, partendo dalle origini fino ad arrivare alla celebre morte e svelando finalmente il segreto della sua menzogna. Grazie alla loro inserita in game con l'avvento del pompa e che potete appunto ottenere uccidendo nemici con il menzogna di Felwinter, sappiamo che il guardiano era un exo, risvegliatosi come tutti in un luogo sconosciuto, privo di qualunque ricordo e accompagnato solo dal suo spettro. La vita di guardiano da Felwinter inizierà a farsi subito movimentata, quando l'odificio in cui si era risvegliato verrà distrutto da una misteriosa poleggia di meteoriti. Da qui inizierà il viaggio senza meta di Felwinter e del suo spettro, a cui ha simpaticamente affibbiato il nome di Felspring, verso una meta ancora sconosciuta. Durante il viaggio tuttavia il guardiano si trovò a dover fronteggiare numerose minacce, a partire dalle comete che, come per l'edificio in cui si era risvegliato, sembravano avere per bersaglio Felwinter stesso, fino ad uno dei tre meccanici che gli tesero una trappola. Grazie alle sue innate roti di combattimento, Felwinter riusciva a riconoscere subito le caratteristiche del territorio che lo circondava, e conoscendo posizioni favorevoli e elaborando strategie di combattimento sempre perfette. Sfruttando questa sua abilità e con l'aiuto di un altro guardiano, riusciva ad avere la maglia sui telai, scoprendo che questi erano stati mandati da Rasputin in persona. Curioso del perché una mente bellica avesse scelto un semplice exo come lui come bersaglio, Felwinter iniziò ad esplorare numerosi bunker del serafino e a fare ricerca sull'età dell'oro. Tuttavia aveva anche bisogno di un luogo sicuro dove Rasputin non avrebbe potuto raggiungerlo. Si rifugiò quindi su una montagna, allora sotto il controllo di un signore della guerra, Castor, che deciso a non cedere la propria cima, venne ucciso da Felwinter, che si impadroni quindi del picco che avrebbe portato il suo nome ancora oggi. Continuando quindi con le sue ricerche, il guardiano venne a conoscenza dell'esistenza di un'incredibile tecnologia che desse possibile le prodezze che caratterizzarono quel periodo. Deciso quindi a trovare questa tecnologia per tornare ad una seconda età dell'oro, lo stregone chiese aiuto ad un gruppo di guardiani conosciuti per le loro gesta, i signori del ferro. Fu così che Felwinter si unì all'ordine di Saladin e che cedette il suo picco come base operativa del gruppo. Ebbene dopo poco, Felwinter riuscì a trovare la collocazione della tecnologia misteriosa classificata con il nome di SIVA. Nonostante gli avvertimenti del suo spettro, che sospettava riguardo la facilità con cui la SIVA era stata scoperta, Felwinter convince gli altri signori del ferro ad organizzare una missione per recuperare questa incredibile tecnologia. Missione che come sappiamo sarà quella che porrà fine al legendario ordine dei guardiani e che lascerà Lord Saladin come ultima sentirà del picco. Tuttavia la storia non finisce qui, perché con l'aggiunta del menzogno di Felwinter in game, la missione finale, Tiranno, ha portato a galla nuovi interessanti risvolti. In questa missione Rasputin ci racconta la storia di un re, che durante un periodo prospero del suo regno mandò suo figlio tra la gente per studiare lo stile di vita. Tuttavia una calamità distrusse il regno e cambiò il figlio del re, che decise di fuggire. Geloso, il Tiranno decise che se non avesse potuto riabbracciare suo figlio, nessun altro l'avrebbe fatto e scatenò la sua furia contro di lui. Propose al figlio una tecnologia miracolosa, che altro non era se non un'esca per una terribile trappola, che pose fino alla vita del figlio rinnegato facendo sprofondare il Tiranno in un'eterna sofferenza. Ebbene per chi non l'avesse ancora capito, la storia di cui parla Rasputin riguarda proprio se stesso, lui e suo figlio Felwinter. Dopo il crollo con il risveglio del guardiano, Rasputin cercò in tutti i modi di ostacolare il suo cammino, fino a quando Felwinter, esplorando un munker del Serafino, non venne a conoscenza della verità, scoprendo un protocollo che avrebbe attivato un certo Golem Siddhartha, un exo risvegliato nella cripta di Pietrafonda. Felwinter decise quindi di mantenere il segreto e di dar luogo alla sua più grande menzogna. Quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate riguardo la storia di Felwinter e il comportamento di Rasputin. E detto questo, io direi che se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate e condividetelo. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.